Stai pensando di adottare o acquistare un cucciolo ed è la tua prima esperienza? Oppure è appena arrivato un cucciolo a casa e sei agitato perché è la tua prima esperienza? Niente paura, ascolta questo video fino alla fine e scopri i segreti per affrontare le paure e le sfide di chi si avvicina al mondo dei cani per la prima volta. Prima di continuare, se è la prima volta che ti capita di vedere un mio video, lascia che mi presenti velocemente. Sono Vincenzo, titolare del negozio Animal House Italia, situato a Monte di Procida, in via Roma 25, presso la caserma dei Carabinieri. Da quasi 20 anni aiuto i proprietari di cani e gatti attraverso la vendita di prodotti e soprattutto dando loro le informazioni in modo che i loro animali possano vivere nel miglior modo possibile. Iniziamo prima a parlare di chi sta pensando di accogliere un cucciolo a casa e quindi a cosa dovrebbe sapere. Chi decide di prendere un cane per la prima volta può affrontare diversi problemi e paure, specialmente se non ha esperienza nell'educazione, addestramento o nella cura di un animale domestico. Alcuni dei problemi e delle paure comuni includono, innanzitutto, senso di responsabilità. Prendersi cura di un cane richiede impegno e responsabilità a lungo termine. Addestramento, anche se io la chiamerei educazione. Educare un cane a rispettare gli altri elementi della famiglia è fondamentale, indispensabile se si vuole avere un bel rapporto col proprio amico a quattro zampe. Richiede tempo, pazienza e coerenza. Chi non ha esperienza potrebbe o dovrebbe rivolgersi a educatori o addestratori qualificati per evitare problemi comportamentali che potrebbero compromettere la convivenza del cane in famiglia. Compatibilità con lo stile di vita. Ogni cane ha esigenze diverse in termini di esercizio, attenzione e interazione sociale. Chi prende un cane dovrebbe informarsi prima circa le caratteristiche della razza del cane scelto, se si tratta di un cane di razza. Un esempio banale, se io prendo un border collie, che è un cane che ama muoversi tanto, non devo poi lamentarmi che è un cane pieno di energia. Paura delle allergie. Chiunque nella famiglia potrebbe essere allergico ai cani o al pelo dei cani, il che può rappresentare poi un problema una volta che il cane è stato portato a casa. Impatto sulla vita quotidiana. Prendersi cura di un cane può influenzare la routine quotidiana e limitare la libertà di viaggiare o fare altre attività che prima erano abituali. E con l'animale adesso a casa può essere un po' un problema. Ferma un attimo. Se ti sta piacendo questo tipo di video, ti chiedo solo di lasciare un bel like e iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Per chi ha invece già accolto il cucciolo a casa o in procinto di farlo, ecco alcune raccomandazioni e consigli. Innanzitutto prepara la casa. Assicurati che la tua casa sia un rifugio accogliente. Parleremo tra un po' dei diversi pericoli che si possono nascondere nell'ambiente domestico e cosa fare per farli sentire a casa e in sicurezza. Preparare l'arrivo di un cucciolo a casa richiede una certa organizzazione e pianificazione per assicurarti che l'animale si senta sicuro e accolto nel miglior modo possibile. Ecco una guida passo passo su come prepararti. Prepara uno spazio dedicato, un'area sicura. Crea un'area specifica della casa dove il cucciolo possa sentirsi assicuro e rilassato come una stanza o un angolo delimitato da un recinto. Assicurati che sia lontano da rumori eccessivi. Un letto confortevole. Acquista un cuscino morbido o una coperta che possa essere il suo rifugio. Anche una cuccia con i bordi rialzati può essere utile per farlo sentire protetto. Questi prodotti puoi trovarli qui al negozio. Acquista l'attrezzatura necessaria. Cibo e ciotole. Procurati un'alimentazione di alta qualità e adatta all'età e alla taglia del cucciolo. Quando vieni qui al negozio ti saprò consigliare il prodotto migliore per il tuo cucciolo. E poi scegli ciotole in acciaio inossidabile per il cibo e l'acqua. Facili da pulire e più igieniche. A tal proposito ti lascio il link del video che ho fatto sulle ciotole disponibili qui al negozio. Un guinzaglio e una pettorina. Un collare regolabile e un guinzaglio sono essenziali per le prime passeggiate e l'addestramento. Assicurati che siano della misura corretta per il tuo cucciolo. Giocattoli sono essenziali per lo sviluppo e il divertimento. Procurati dei giocattoli sicuri e adatti ai cuccioli come quelli da masticare per aiutarlo a gestire meglio la dentizione e a simulare la mente. Qui al negozio puoi trovare un vasto sostituimento di giochi. La cura e la pulizia. Finché non finisce il ciclo delle vaccinazioni. Preferibile non lavare con l'acqua ma con uno shampoo a secco o delle salviette per cuccioli. Tenere sempre pulite le orecchie. Dare qualche masticativo tipo corni di cervo. Con il quale il cucciolo può trovare del sollievo dal prurito e fastidio che ha nel periodo di dentizione. Durante il quale i denti sono come dei coltelli molto taglienti e tende a mordere tutto. Poi intorno ai 4 mesi e mezzo barra 5 si ha la caduta dei denti da latti che vengono sostituiti da quelli per adulti. Quindi tieni a portata di mano salviette per animali, shampoo a secco per cuccioli, tappetini igienici. Adesso parliamo dei pericoli e qualche consiglio per la sicurezza del tuo nuovo amico peloso. Innanzitutto a casa ci possono essere delle piante tossiche. E questo è un pericolo. Alcune piante, ne ricordiamo alcune, begonia, ciclamino, giglio, oleandro, stella di natale, possono essere tossiche per cani e gatti. Assicurati di eliminare le piante nocive o posizionarle fuori dalla loro portata. Fornisci alternative sicuro per il loro sfogo estintivo di masticare, tipo ancora un corno di cervo, che è l'ideale. Fili elettrici e cavi sono un pericolo. Molti animali domestici amano mordicchiare fili e cavi, il che può causare notevoli pericoli. Un consiglio? Usa delle protezioni o nasconde i fili. Metti a sua disposizione i giocattoli per distrarli ed educa il tuo animale domestico a non mordicchiare i cavi. Non è proprio semplice, ma si può provare. Oggetti piccoli e potenzialmente ingoiabili. Pericolo tipo gioielli, giocattoli piccoli, oggetti affini, potrebbe essere ingeriti causando problemi di salute. Un consiglio? Mantieni gli oggetti piccoli fuori dalla portata del cane. Medicinali e sostanze pericolose. Questo è un pericolo perché i medicinali, prodotti per la pulizia, sostanze chimiche, possono essere dannosi se ingeriti. Un consiglio? Conserva i medicinali e le sostanze chimiche fuori dalla portata. Sigilla bene i sacchetti e presta attenzione a ciò che lasci in giro quando il tuo animale domestico è libero in casa. In casa ci possono essere delle zone pericolose. Esempio? Le scale, i balconi, le aperture possono rappresentare dei rischi di caduta. Degli ospiti rumorosi o movimentati. Alcuni animali domestici possono essere sensibili particolarmente al rumore o a un ambiente troppo affollato. Abitua gradualmente il tuo animale domestico a nuovi suoni e situazioni, fornendogli un rifugio tranquillo e sicuro quando necessario. Stabilisci una routine dei pasti. Imposta una routine regolare per i pasti per aiutare il cucciolo a sentirsi sicuro. L'alimentazione dovrebbe essere somministrata a orari fissi. Decidi in anticipo dove il cucciolo dovrà fare i suoi bisogni. Se hai un giardino può essere utile abituarlo subito all'esterno, altrimenti puoi usare i tappetini igienici per interni che li trovi qui al negozio. Ricorda che i primi giorni il cucciolo avrà bisogno di marcare il proprio territorio e quindi farà tante diverse piccole pipì. Potrebbe essere opportuno posizionare diversi tappetini in diverse zone della casa. Le ore di gioco e di riposo. I cuccioli hanno bisogno di un equilibrio tra il gioco e il riposo. Dedica del tempo alle attività fisiche, ma assicurati che abbia momenti tranquilli per poter riposare. È importante una visita dal veterinario, quindi organizza subito una visita veterinaria poco dopo l'arrivo per un controllo generale, aggiornare le vaccinazioni e ottenere dei consigli specifici sulla cura del cucciolo. Microchip e vaccini. Se non sono stati già fatti, programma la microchippatura e le prime vaccinazioni essenziali per proteggere il cucciolo dalle malattie. Addestramento di base. Inizia subito. Anche se è un cucciolo, è importante iniziare da subito con comandi di base come seduto, vieni, no. La costanza, la coerenza e il rinforzo positivo con premi e lodi sono fondamentali. È importante farlo socializzare. Esponilo gradualmente a nuove persone, ambienti ed altri animali per evitare che sviluppi timori o comportamenti ansiosi poi in futuro. Ci vuole pazienza e tanto amore. Ricorda che ogni animale è un individuo con le proprie esigenze. Adatta le aspettative. I cuccioli richiedono tempo per imparare e adattarsi al nuovo ambiente. Sii paziente durante il processo di addestramento e le prime settimane di convivenza. Preparare l'arrivo di un cucciolo richiede attenzione, ma è un'esperienza bellissima che aiuterà il nuovo membro della famiglia a sentirsi amato e al sicuro. Ti auguro un meraviglioso viaggio di vita con il tuo amico Peloso. Se hai visto il video fin qua e lo hai trovato piacevole, ti invito a lasciare un bel like e ad iscriverti al canale. Ciao da Vincenzo